In Asia si deve andare, ha detto Papa Francesco ai giornalisti alla fine del viaggio in Brasile. E ora il Papa va in Corea del Sud a 15 anni dall'ultima visita di San Giovanni Paolo II in India. Cosa rende questo viaggio così importante? Direi che l'importanza di questo viaggio è legata essenzialmente a tre fattori. Il primo è il fatto che il Papa per la prima volta si reca nell'Estremo Oriente, una regione del mondo che acquista una rivela avanza sempre più accentuata nella politica e nell'economia mondiale. Va il Papa per rivolgersi a tutto il continente, non soltanto alla Corea. Certo, il viaggio per la Corea però ha come destinatari tutti i paesi del continente grazie proprio a questa celebrazione della giornata asiatica della gioventù che si svolgerà in Corea, alla quale parteciperanno rappresentanze dei giovani dei paesi vicini. E poi appunto il terzo aspetto è quello del futuro. La gioventura presenta il futuro, quindi il Papa si rivolge al futuro di questo continente, e si rivolge al futuro dell'Asia. Il cuore del viaggio sarà l'incontro del Papa con i giovani asiatici che spesso in questa società competitiva abbandonano la Chiesa per cercare successo nella scuola e nel lavoro. Quale messaggio porterà loro Papa Francesco? Il messaggio io credo che il Papa porterà a questi giovani e che devono diventare protagonisti della vita della Chiesa. Quindi una presenza attiva, una presenza partecipe, una presenza fatta di collaborazione e di corresponsabilità. La Chiesa ha bisogno dei giovani, ecco ce lo ricordava San Giovanni Paolo II, ce lo ricorda il Papa Francesco. Quindi un protagonismo all'interno della Chiesa e un protagonismo anche nella missione. I giovani, questa è la chiamata fondamentale, devono diventare evangelizzatori dei loro coetani. Quindi siamo sempre sulla linea della evangelizzazione ed è questo il messaggio che il Papa porterà oltre naturalmente all'insistenza sul non lasciarsi abbagliare, diciamo, dai valori effimeri delle nostre società e del nostro mondo e di trovare in Gesù la vera risposta ai loro interrogativi e alle loro inquietudini. Quale testimonianza possono dare alle giovani generazioni di cattolici asiatici i martiri coreani che Papa Francesco beatificherà a Seul? Questo è un altro motivo per il quale il Papa va in Corea, per la beatificazione dei 124 martiri coreani. Credo che va sottolineato il fatto come all'interno di questo gruppo c'è soltanto un sacerdote, ecco, mentre gli altri sono laici che esercitavano le più svariate e differenti professioni, dalle più umili, diciamo, alle professioni più in alto nella scala sociale. E questo ci riporta ad una delle caratteristiche della Chiesa coreana, e cioè il fatto che è una Chiesa nata dalla testimonianza e dall'impegno dei laici, ecco, che hanno saputo conservare e trasmettere la fede. Credo che questo è il messaggio fondamentale, cioè che nella Chiesa tutti siamo chiamati a collaborare alla missione di annunciare il Vangelo, e tutti siamo chiamati alla santità, ecco, una santità che si può manifestare in diverse forme, ma che deve caratterizzare l'impegno di ciascuno, ecco. Il Papa chiuderà il suo viaggio in Corea, che i Vescovi definiscono l'ultima vittima della guerra fredda, con una messa per la pace e la riconciniazione. Questo viaggio di Papa Francesco potrà contribuire ad aprire canali di dialogo tra i leader delle due Coree e dare speranza ai cattolici della Corea del Nord? Beh, questo lo speriamo, ecco, questa è sempre stata la grande speranza della Santa Sede che si è impegnata anche concretamente in questa direzione. È una constatazione, diciamo, più che ovvia, che la penisola è ancora percorsa da molte tensioni, ecco, e che la penisola ha bisogno di pace e di riconciliazione. Io credo che il viaggio del Papa aiuterà anche in questo senso, nel senso di continuare in questa opera di solidarietà nei confronti delle popolazioni che si trovano nel bisogno, nella necessità, e di favorire, ecco, nella misura del possibile, apertura di spazi di comunicazione e di dialogo, perché io credo, appunto, ed è una convinzione che il Papa ha ribadito tante volte, che soltanto attraverso questa comunicazione e questo dialogo si possono anche risolvere i problemi che ancora esistono e che se c'è buona volontà da parte di tutti, ecco, canali se ne trovano sempre.